Prizio Zamboni, dieci domande in dieci minuti. Sei pronto? Prontissimo. Quando ti chiedono che lavoro fai, tu cosa rispondi? Che mi occupo di formazione, che è la cosa più bella della mia vita, perché cerco di insegnare agli altri o trasmettere quello che io ho imparato. Parliamo di comunicazione, ed è la cosa più bella, è la cosa più bella. Facilissimo. Sono stato troppo bello. Bravissimo. La seconda domanda è, qual è la tua definizione di successo? Guarda, il successo qualcuno lo vede come una freccia che va in su. Cioè, domani devo avere di più di oggi. Qualcun altro successo può vederlo anche come una freccia orizzontale. Cioè, domani sono cresciuto, ma io, non in su. Dicevo una frase bellissima, guarda, eh? Qualcuno dice che il successo è diventare qualcun altro. Altri dicono che il successo è restare se stessi. Bellissimo. Anche qui, semplice ma preciso. Maurizio, secondo te, quanto conta un'idea in un business di successo? Beh, è chiaro che un'idea è fondamentale. Voglio dire una cosa, cioè, è chiaro che se tu oggi scopri una cosa nuova che non c'era, devi essere proprio bravo a rovinarla e sei un fenomeno, se l'hai trovata. Ma di quelle robe lì ce n'è una ogni anno, un'idea nuova, no? La domanda è se trovi l'idea nuova vai. E se non è un'idea nuova, devi essere bravo a salvarla. Cioè, a farla diventare nuova perché la fai tu in maniera diversa, personale. Quindi l'idea conta, ma conta anche quanto tu la proteggi. Interessante. Maurizio, che consiglio daresti a chi ha un forte desiderio di partire con la sua iniziativa imprenditoriale, ma non l'ha ancora fatto? Di capire che non è facile all'inizio, non è facile. Guarda, la cosa più clamorosa è quando tu hai un'idea e immediatamente cosa fai? Chiami un amico e condividi, no? E dici, oh, ho pensato sta cosa. Ecco, lì è il momento più delicato. Perché se trovi l'altro che ti dice, sì, ma c'è già, sì, ma cosa serve, sì, ma c'è troppo il complicato. Tutti questi sì, ma, sì, ma, sono quelli che spengono la tua idea. Allora, non è che tu non devi parlarne con nessuno. Parlane. Però metti il filtro giusto, trova le persone giuste con cui parlarne. Perché difficilmente io ho trovato qualcuno che mi dicesse sì e mi ha acceso ancora di più. Ho sempre trovato delle barriere. Quindi parlane, ma col filtro giusto. Spero di essere stato chiaro. Chiarissimo. Maurizio, qual è il miglior consiglio che ti sia mai stato dato? Guarda, mi viene in mente una cosa che mi emoziona anche. E ti devo rubare più di un minuto. Lavoravo nei villaggi turistici, mi avevano detto di fare una stagione invernale al villaggio delle Maurizius, che vuol dire 100 persone, vabbè, hai capito, il paradiso. Non si faceva niente. Io ero tutto contento, no? Torniamo da questo seminario. Un capovillaggio, amico mio, carissimo, Pier Giacomo Bianchi, mi dice, ma dove vai quest'inverno? Allora, il Maurizio, il suo bellissimo, si fa niente. E lui mi ha detto, bravo. Se vai avanti con questo pensiero nella vita, non farai niente. Tu, se sei il numero uno, dovevi dire alla società, qual è il villaggio più difficile? Quello lì. Io vado lì. A me quelle parole lì mi hanno... È stata una sberla. Sono sceso all'aereo, ho chiamato, ho detto, scusate, qual è il villaggio più difficile? Ma rileva. Vado lì. A due giorni dalla partenza ho cambiato. Quel cambiamento mi ha cambiato la vita. Non aver paura di affrontare le sfide. L'obiettivo è diventare il numero uno. Anche se non devi arrivare là, non aver paura di affrontare le sfide. Mi ha cambiato proprio da così a così, guarda. Meraviglioso. Lo auguro a tutti. Ed è un qualcosa che continua a fare anche oggi, Maurizio. Me lo faccio da solo. Mi vedo la scaletta d'aereo e dico, forza, forza, c'è una sfida importante, vai. Poi si sbaglia, poi si cade, però falla. E te lo dice una persona che è profondamente timida e anche oggi, prima di fare questa diretta, all'ultimo secondo ti avrei chiamato, lasciamo stare, perché... Eppure, boom. È qualcosa che mi ha sempre affascinato di te. incredibile. Qual è stato il tuo più grande errore imprenditoriale? Non aver seguito la follia della mia idea. C'ho un'idea, la racconti e ti dicono... E pian pianino mi sono fatto spegnere da loro e non l'ho salvata e non l'ho fatta, non l'ho messa in pratica. Grave fallimento. Fallo, poi sbaglierai, ma fallo. Io ammiro le persone che fanno e sbagliano e ripartono. È troppo facile star seduti a guardare così. Fai, fai. Quante ne ho perse per strada, guarda. Però quante ne hai fatte, Maurizio? Sì, ma ce ne sono due o tre che sono ancora lì, me le tengo lì perché dico, non c'è un limite di tempo, no? Ma prima o poi ci arrivo, guarda. È l'atteggiamento giusto, mai mollare. Invece, qual è stata la tua più grande soddisfazione o vittoria professionale, imprenditoriale? Beh, televisivamente ti dico una cosa. Avevo fatto un programma nel 97 su Italia 1, l'avevano chiuso, me l'ho sentito fallito, mi ero ripromesso che mi avrebbero richiamato loro e così è stato. Villaggi turistici mi sono lasciato con la società che sai, la Valtour, che amavo follemente. La soddisfazione più grande è stata riuscire a ricostruire quello che più ci piaceva con una società mia, con Antonio, Alfieri, Animavera. Abbiamo ricostruito quella bellezza, la famiglia, tutto quello che sai, che chi ha lavorato nei villaggi sa perfettamente e la teniamo viva tuttora, che è la soddisfazione massima. La più grande è stata proprio quella di fare la formazione, che penso che sia la cosa alla quale io ero più adatto dall'inizio, proprio la formazione. Non c'è ombra di dubbio, me ne rendo conto da solo, me la sto cantando da solo, però quella roba lì è quella che mi piace di più. È curioso, Maurizio, come spesso dall'esterno le persone capiscono le cose prima di noi. E noi che ti conosciamo, l'abbiamo sempre, se ce l'avessi chiesto, te l'avremmo detto. Comunque, è il progetto che si chiama Anima... Animavera e villaggi turistici. Perfetto. La formazione web speaking e tutto. Perfetto, perfetto. E Maurizio, se dovessimo prendere una macchia del tempo e tu potessi parlare con te stesso in quel momento che passavi da dipendente a partita IVA intraprendente, cosa ti diresti? Che devi avere un po' di incoscienza. Cioè, preparati a ballare perché si balla. Preparati. Non è tutto liscio. Però, poi, apprezzi il termine qualità del tempo. Libertà, rischio. Tutte parole che poi cominci ad apprezzare e cominci ad indossarle come una giacca, su misura. Bellissimo. Dovessi trovarti a ripartire da zero, oggi. Qual è la prima cosa che faresti? Sto ripartendo da zero. Sto ripartendo. Proprio in questi giorni stiamo costruendo un profilo Instagram per aprire i corsi di comunicazione a tutti. Sono reso conto che ci sono molti ragazzi che avrebbero voglia di imparare a parlare con le persone, a comunicare meglio, a fare bene un colloquio di lavoro, anche in videocall, ad esempio, adesso. O semplicemente a superare un po' le loro timidezze. Chi è che te le insegna? Io ti dico, mi permetto di insegnarle perché è un lavoro che ho fatto su di me. Cioè, io ero la persona più timida del mondo, suonavo a Bergamo in un piano bar in città alta col pianoforte rivolto al muro. Quindi guardavo me e il muro, non sapevo neanche quanta gente c'era dietro. Anche perché se avessi visto che c'era una persona, scappavo a casa. Da lì, cosa ho fatto? Vado a lavorare nei villaggi turistici che, cioè, qualcuno mi ha detto ma tu sei scemo, cioè sei la persona più timida del mondo, vai a villaggio turistico. Ti dico che i primi anni la gente, gli ospiti mi salutava, io non rispondevo al saluto dalla vergogna ed ero l'animatore. Questi dicono che animazione quest'anno, che fenomeni. Una vergogna. Ma perché non è che avevo paura di dire ciao. La mia paura era dopo che si dice cosa devo dire non sono capace. pian pianino ho trovato il mio equilibrio, no? E ci sono arrivato. Io questo lo posso raccontare e spiegare, ragazzi. Sai quando vai a cena che sei sempre quello che non parla mai? Sì, sì. E dici parlano tutti o mai? Non è vero. Ce la fai anche tu? C'hai anche tu roba da raccontare? C'hai anche tu voglia raccontare? È che sei un po' chiuso da certe barriere che ti costruiscono gli altri. Non tu. Gli altri te le costruiscono. Hai una cosa da raccontare in una serata? Raccontala un minutino. Parti da lì ma poi ci arrivi. Quindi oltre alla spontaneità ci vuole anche un po' di preparazione? Tutto. Tutto preparazione. Tutto preparazione. Assolutamente. Oggi è un mondo che richiede tantissima preparazione. Ma per te? Ma tu pensi a uno sportivo. Prova di uno sportivo vai e non annelarti. Cioè, è impensabile. Appena uno si allena tanto così di meno non riesce più a fare gli stessi risultati. Poi, ribadisco, se c'è quello che ha il talento, bravo. A parte che anche quelli che hanno talento, vedi, parliamo di tennis, Federer si deve allenare anche lui a un certo livello. Potrebbe giocare con un braccio legato, tanto è bravo. eppure si deve allenare anche lui. Tutti dobbiamo allenarci. Allenarci per me è molto informazione. Certo. Infatti, magari dopo quando faremo la chiacchierata backstage vorrei chiederti proprio queste cose perché mi hanno sempre incuriosito. Vediamo l'ultima domanda, Maurizio. La decima. Qual è la tua prossima idea da trasformare in business? I corsi su Instagram. Assolutamente. Assolutamente. Spero che inizino e che possono aiutare tantissime persone. A proposito di questo mi permetto di dirti anche una cosa economica ma importante. Stiamo pensando anche a una cifra che equivalga a una pizza, due pizze per un ragazzo proprio per cercare di dare una mano più possibile a tutti. Io sono veramente molto contento che ti abbia trovato il tempo per questa intervista perché conoscendo anche la tua storia, le cose che hai fatto, per me sei una delle persone più intraprendenti che io conosca. Grazie. Ringrazio e tra cinque minuti o meno ci ricollegheremo per una chiacchierata backstage. Grazie Maurizio. Grazie, grazie a tutti. Grazie.